fabrizio santorio lo vogliamo dire bene ma come ci si trova è intervenuto abbiamo sentito silvio berlusconi il vecchio leone possiamo chiamarlo così no certo quello che ancora non si ferma ancora insiste a spingere il carro più che tirarlo in realtà lo sta spingendo ma voi giovani leone invece vi preparate su ciò che alla fine insomma indipendentemente dal lavoro della magistratura comunque alla fine per età se non altro un seguito a berlusconi andrà dato non c'è dubbio che il presidente berlusconi intanto fino a quando avrà l'energia sarà l'unico in grado in questo momento di battere le sinistre e le lobby che la sinistra rappresenta è l'unico in grado in questo momento di tenere unito il centro-destra quindi andremo avanti con lui fino a quando ci sarà una necessità qualfano qualfano non c'è proprio riuscito in realtà per il momento insomma ci sono parecchie frizioni ma è evidente che per la prossima elezione l'unione del centro-destra ci dovrà essere e quindi l'unico in grado di rappresentare appunto come leader il centro-destra attualmente è soltanto lui ancora un senso mi perdoni se l'interroppo ancora un senso parlare il centro-destra centro-sinistra sembra tutto un enorme papocchio se mi permette questa vecchia parola dove Renzi non si capisce alla fine a capo del pd c'è un ex dc un uomo di formazione democristiana le istanze che porta avanti grillo sembrano istanze normali che portano avanti un po tutti dentro il movimento grillino infatti c'è destra e sinistra mischiata a destra appunto al fano se ne esce dopo essere stato per così tanto tempo il delfino di berlusconi c'è un po di confusione in giro confusione è tantissima noi comunque con i nostri valori non abbiamo mai condiviso questo papocchio che sostanzialmente non c'è non da riconoscendo non da riconoscimenti a quelli che sono gli uomini di destra gli uomini di sinistra cioè i valori che possono stare nel centro-destra i valori che possono stare la gente confusa non sa chi votare aumentano gli astenuti proprio quello il bacino su cui andare a lavorare è quello il punto di partenza cioè quello di tenere insieme cioè dare una riconoscibilità alla politica che si svolge perché ci sono azioni che si possono svolgere dando un segnale di risoluzione delle problematiche proprio da destra o da sinistra se non ci sono identificazioni di questo genere la gente è confusa non ha riconoscimenti non ha persone a cui affidarsi quindi è evidente che serve un'azione forte su questi temi sui temi dei valori gli indecisi si conquistano con argomenti forti che sono vicini alla gente in un momento in cui in quell'esempio non c'è lavoro in giro ed è inutile continuano a giocarci sotto ma insomma o qui il lavoro o lo dà lo stato o lo danno alle aziende ma se poi alla fine le vendite non vanno le cose non funzionano diventa il rischio è che diventi un assistenzialismo di stato ma in quel momento lì noi stiamo continuando a importare gente da fuori no per carità siamo stati un popolo molto accogliente ma è ancora il caso di continuare a fare entrare tutti o no non è assolutamente il caso bisogna fare entrare chi poi ha un'opportunità di lavoro altrimenti è manovalanza per la criminalità organizzata per la micro criminalità bisogna controllare le frontiere così come avviene in tutta europa e nel mondo soltanto l'italia purtroppo che è il ventre molle dell'europa soprattutto in sicilia e al sud continua ad avere degli sbarchi continua ad avere immigrati clandestini per carità tra di loro ci potrebbero essere anche persone oneste ma il tema sicuramente ci sono persone oneste che vogliono lavorare molto nel rischio che poi vengano semplicemente sfruttate c'è lo sfruttamento costante ma di che immigrati che sono presenti in italia ce ne sono tanti sono onesti vanno rispettati il problema è il numero impressionante di immigrati clandestini di nomadi ma anche persone che vengono dalla comunità stessa europea non ci sono frontiere non c'è un controllo del sistema di flusso anche all'interno dell'europa quindi vanno rispettate le direttive la direttiva dell'europa e la direttiva dell'europa in realtà ci dovrebbe essere una libera circolazione tutto sommato sì però ci sono anche delle direttive come dicevo il rimpatrio per i cittadini extracomunitari e la direttiva sulla casa e sul lavoro perché se non sia una casa un lavoro come avviene in francia ed altri paesi le persone si prendono e in maniera coatta si riportano nei loro paesi abbiamo visto recenti esempi in belgio dove hanno preso proprio un'italiana che non aveva apparentemente una fonte di reddito l'hanno sbattuta fuori questo deve avvenire in tutta europa perché lo dicono le leggi poi vanno le leggi vanno rese vanno applicate quindi rese concrete sul territorio questo purtroppo in italia non avviene quindi c'è un senso di impunità anche che coinvolge tantissime realtà straniere e che vengono in italia per fare quello che vogliono quindi noi siamo i fessi un po' del continente europeo e siamo stanchi anche sul marò abbiamo subito quello che abbiamo subito l'italia è derisa da un'azione internazionale che non tutela i nostri due leoni ormai finimi in india da moltissimo tempo quindi su questo ostaggio direi della politica locale che finché non si faranno le elezioni non finisce non è soltanto questo è anche ostaggio di interessi forti quelli delle compagnie delle indie insomma il tema però è la famosa storia degli elicotteri che non si sapeva se l'india li ordinava pure no ed era legata proprio a questa lasciateci marò e vi ordiniamo gli elicotteri tutti